L'Assessorata ai Servizi Sociali di Vittoria ha sostenuto e accolto l'iniziativa della Fondazione Il Buon Samaritano per un dialogo interreligioso in occasione del mese di Ramadan. Primo appuntamento domani, 25 maggio, presso Gerico, la città dei ragazzi, con una conferenza su digiuno nella tradizione giudaico-cristiana-islamica, autodisciplina, purificazione e ascesi. L'argomento verrà affrontato da sacerdoti vittoresi e rappresentanti delle comunità islamiche presenti sul territorio, convinti fermamente, ha dichiarato l'Assessore Gianluca Occhipinti, che occorre un dialogo tra culture e religioni diverse. Vittoria è una città accogliente, prosegue ancora Occhipinti, ospita da decenni, forte comunità di cittadini provenienti da diverse nazioni, facendo registrare una notevole integrazione. Abbiamo pertanto accolto l'invito dell'associazione e della moschia per riflettere su tematiche estremamente attuali attraverso un ciclo di incontri tra esponenti delle diverse religioni, occasione, conclude Occhipinti, di crescita civile e culturale per tutta la città.